Alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria si è tenuta la cerimonia del giuramento del 140esimo corso. Ha giurato anche un giovane nisseno, Angelo Andolina, che successivamente ha indossato gli alamari sul bavero della giacca dell'uniforme. Un momento particolare, vissuto con straordinaria emozione, perché a sistemare gli alamari sulla divisa di Angelo Andolina è stato il padre Fortunato, che è assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in servizio alla sezione volanti della questura di Caltanissetta. In un messaggio diffuso dalla stessa questura nissena, attraverso il canale social di Facebook, si legge Ad Angelo è Fortunato auguriamo ogni bene e al primo di emulare il padre, che da anni svolge il proprio servizio con grande spirito di sacrificio e alto senso di responsabilità. Notevole la partecipazione degli utenti della rete, il post ha ottenuto circa 800 like e quasi 300 commenti.